E ora ritorniamo ai programmi della Rete 1. Inizia questa sera con la commedia a Non è vero ma ci credo un ciclo di lavori teatrali di Peppino De Filippo, il grande attore-autore napoletano scomparso appena tre settimane orsuno. Il ciclo, realizzato da alcuni mesi, acquista ora, a pochi giorni dalla scomparsa di Peppino, il sapore di un doveroso omaggio alla sua arte e alla sua costante e significativa presenza nel teatro italiano degli ultimi 50 anni. Il pubblico televisivo potrà così vedere, per quattro settimane, alcuni dei suoi lavori più importanti. Oltre a Non è vero ma ci credo, andranno in onda la lettera di mamma, 40 ma non li dimostra una commedia scritta in collaborazione con la sorella Titina, e nell'ultima serata i due atti unici di Spacca il centesimo e Pranziamo insieme. Trasmettiamo ora il primo atto della commedia Non è vero ma ci credo. Abbiamo trasmesso il secondo atto della commedia Non è vero ma ci credo. Il terzo atto andrà in onda fra pochissimi minuti. Il terzo atto andrà in onda fra pochissimi minuti. Il terzo atto andrà in onda fra pochissimi minuti. Trasmettiamo ora il terzo atto della commedia Non è vero ma ci credo. Non è vero ma ci credo. Non è vero ma ci credo. Non è vero ma ci credo.